Omar Maglione è pronto per il quinto round del campionato italiano velocità montagna. La nona salita Morano-Campotenese dal 14 al 16 giugno alle pendici del Monte Pollino, provincia di Cosenza. L'otto volta il campione italiano a porta colori della scuderia siciliana CST Sport sull'osella PA 2000 Honda riprende la via del tricolore. L'evento calabrese sarà dunque uno dei più importanti in assoluto in questa fase della stagione per i pilota sassarese, impegnato anche nella promozione della Onlus Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica, che tra l'altro dovrà anche fare appello a tutta la propria tenacia per contenere l'atteso arrivo dei prototipi di classe 3000. Dopo le verifiche sportive e tecniche da completare venerdì pomeriggio, sabato a partire dalle 9 e mezzo il via le due salite di prove ufficiali sui 7 chilometri del tracciato calabrese. Domenica 16 giugno alle 9 partenza di gara 1 e a seguire della finale gara 2.